Hello bad guys! Ok, è passato un bel po' di tempo da quando ho caricato il mio ultimo video e in un certo senso sono altri tanti anni che vorrei caricare quello che state vedendo ora, questo qui ma non so nemmeno se effettivamente qualcuno di voi lo stia vedendo però mi sembrava doveroso farlo in un certo senso perché ci ho messo tanto? perché sono stato in una sorta di limbo, permettetemi il termine in cui un po' non avevo voglia, un po' non avevo letteralmente tempo e appunto l'ho caricato soltanto oggi diciamo che la scintilla l'ho avuta grazie a un mio ex collega NatiStoryX, non so quanti voi se lo ricordino spero di sì, altrimenti mi sentirei un po' vecchio e fuori luogo comunque sia, c'è un attorno nel caso e appunto questo video mi sembrava doveroso farlo proprio per quei... in un certo senso ormai penso sia dei pochi se non nessuno che continuano a seguire il seguente canale ma prima di parlarvi un po' di cosa faccio ora, che film abbia fatto e qual è lo scopo del video vorrei appunto cambiare inquadratura perché nella maschera uno, muoio, fa caldo e un po' complicate, a parte tutto anche il suono non so quanto possa essere effettivamente decente da qui quindi cambio inquadratura faccio vedere forse magari il mio vecchio playmate e ci vediamo dopo ed eccoci qui con questa immagine del mio vecchio playmate che ti dà un sacco di emozioni, di nostalgia in quanto è stato effettivamente uno dei miei più grandi compagni di avventura dato che è stato anche presente in ogni mio video e nei vari eventi è stato sempre con me quindi lacrimuccia quindi la prima domanda che mi vorrebbe da fare ora è Stardust? Giochi ancora Yugi? un po' mi fa senso chiamarmi con questo nickname comunque la risposta ovviamente è scontata ed è no perché anche perché diciamocelo io ho collegato Yugi a YouTube ogni volta quindi quando iniziavo a giocare a Yugi io ricominciavo a giocare a carte ero sempre qui su YouTube magari anche a fare l'annuncio però che sarei tornato eeeh vorrei parlarvi in questo video dei motivi per cui ho smesso di giocare partendo anche un po' da quello che effettivamente faccio ora nella mia vita e cosa ho fatto nel periodo di inattività diciamo che ho perseguito il mio sogno quindi ho dedicato gran parte del mio tempo allo studio e a vari progetti e tutto ciò è servito effettivamente tanto che ormai lavoro ormai da diverso tempo, diversi anni come sviluppatore di videogiochi nello specifico come game e level designer quindi non programmo in questo caso e non disegno per chi non lo sapesse il game designer diciamo è quello che si occupa della struttura del gioco stesso determina le meccaniche di gioco a fare diciamo un minimo di lavoro di psicologia in un certo senso cercando di trovare di creare l'esperienza ecco vabbè level designer ovviamente è quello che va a costruire i livelli quindi magari se avete questo anche voi questo piccolo sogno nel cassetto magari siete interessati a intraprendere questa carriera non lo so qualsiasi cosa io sono a disposizione per qualsiasi consiglio quindi iscrivete qui nei commenti tranquillamente cercherò di rispondere a tutte le domande dove posso ora non mi reputo un big un grande qualsiasi cosa però quantomeno posso darvi una piccola direzione mentre per quanto riguarda gli interessi dato che avevo smesso con Yuki diciamo mi sono ho dedicato un po' League of Legends da quel punto di vista di hobby mannagino è lato oscuro si può dire e poi un po' altri videogiochi co-op insieme a Zack che probabilmente non vi ricordate insieme ma è quel ragazzo che ha perso qualche mio video durante le unboxing nel 2013 o qualcosa del genere quindi ora vi spiego un po' i motivi per cui ho smesso di giocare a Yuki che sono ahimè più di uno come potete immaginare uno dei motivi principali se non il motivo principale è stata la perdita di interesse e metto un po' le mani avanti quindi vi dico già che queste queste sono mie opinioni personali quindi mi raccomando se non vi trovate d'accordo basta esprimere la vostra anche opinione qui sotto nei commenti anche per creare un piccolo confronto senza essere volgari o sfociare nel cosiddetto flame quindi il gioco era troppo veloce era diventato un po' coin flip non avevo nessun amico in real con cui giocare quindi diciamo in un certo senso andavo a spendere i soldi per nulla la fumetteria delle mie parti ok stava cominciando a creare piccoli torneini si stava creando una piccola community ma ahimè io non abito più da queste parti da un bel po' si sto facendo il video nella stanzetta in cui avevo iniziato a fare video come avete potuto notare e a Roma la città in cui lavoro sono un ragazzo timido quindi tendenzialmente andare in fumetteria così senza conoscere nessuno mi metteva non poca ansia perché sono quel tipo di persona che se osservata e sai come il nuovo arrivato comincia a osservare va facilmente in ansia per quanto non possa sembrare per quanto stia facendo appunto il video su youtube però almeno qua mi sento leggermente a mio agio in quanto è un ambiente che sono riuscito a creare ecco per quanto ormai sia non devastato però vuoto ecco sì voglio ecco non mi veniva la parola giusta spoglio ok quindi questo è uno dei motivi poi un altro motivo che ha contribuito tanto e sono stati appunto i motivi economici cause economiche avevo l'affitto da pagare a Roma che è un botto ora forse avrei molti meno problemi dato che ho un lavoro però appunto sono spese e manca effettivamente il tempo per me perché dovete sapere se fate anche il game developer avete veramente poco tempo a disposizione veramente poco in alcuni periodi quindi troppi soldi da spendere per un mazzo prezzi un po' allucinanti in alcuni casi un altro fattore determinante sono stati i problemi personali e magari con questo video anche cerco anche di essere più confident mettiamolo tra virgolette e poi da quando ho perso il cane diciamo ho cominciato a avere anche un po' più di problemi a livello psicologico in un certo senso perché ero molto ma molto legato appunto al mio cane però tra i vari problemi anche il dovuto da alcune persone per cui sono stato male e mo' non voglio fare il maestro di vita diciamo che per colpa di una persona in un certo senso mi ero allontanato dal gioco perché mi andava un po' a ricordare quella persona dato che ci eravamo conosciuti grazie al gioco comunque sia ora col senno di poi sapete come mi direi cazzone letteralmente coglione tutti insulti possibili e inimmaginabili il consiglio che vi do appunto non privatevi di ciò che vi piace per colpa di qualcuno perché non ha un dannato senso vi fareste solo del male e per quanto possa sembrare stupido fidatevi che è stata abbastanza dura per me e infatti non ho problemi a dirlo perché penso sia una cosa abbastanza naturale un altro motivo forse l'ultimo per cui ho smesso è che in un certo senso mi sono sentito preso in giro da un po' da parte dei miei viewers non voglio dire tutti assolutamente perché ci sono sempre stati alcuni fan super fedeli al canale mettiamola così molti mi chiedevano alcuni video nello specifico di alcune decklist grazie quindi cosa succedeva? io andavo a sprecare un botto di tempo uno per costruire i mazzi due per leggere appunto gli effetti e poi testarli montare il video fare le varie partite magari provare fare i combo confrontarmi magari con altri colleghi anche stranieri e poi appunto caricavo il video quando andavo a finire tutti i lavori che mi costavano vari giorni un po' mi sentivo preso in giro nel senso che quelle persone che erano più di una purtroppo non venivano a vedere il video mi piace erano quelli che erano e non avevo lo stimolo in questo senso e un po' mi ero demoralizzato da quel punto di vista poi aggiungete questo ai motivi che vi ho citato prima insomma mi hanno un po' messo al tappeto quindi sono stato così per un bel po' e mi sto riprendendo ancora piano piano da quel periodo quindi ritornando un po' sul discorso del gioco stesso come vi ho accennato prima non so effettivamente ora come sia il gioco attenzione non voglio quindi giudicare un libro senza averlo letto ecco quindi correggetemi se sbaglio però a differenza di come ero abituato prima ossia nell'anno 2011-2012 no anzi 2010-2011 diciamo che il gioco era leggermente più lento rispetto a come è ora o almeno a quando ho lasciato fasti pensare per esempio negli anni appunto scorsi in 2010-2011 circa il tipone spaziale mistico tipone diga no anche no il tipone era semilimitato e distruggere una carta magia o trappola sul terreno così gratis con una magia rapida all'epoca era qualcosa di veramente ma veramente grosso e un po' diciamo questa cosa si è persa tanto che da quel che mi hanno detto lo spolverino delle arpie per ora cioè ora è limitato se non a tre addirittura non mi ricordo non voglio dire cacchiate ma sicuro lo puoi giocare Regeki prima era una cosa impensabile e ora quel che voglio dire non dico che il gioco sia una merda attenzione è solo un effetto nostalgia che si è creato in me quindi non mi riesco più a divertire come prima ma ripeto non sto dicendo che il gioco in sé per sé è come sia una merda ecco assolutamente no sono solo ripeto le mie opinioni e credetemi se era un passo anche così da ricominciare a giocare a Yugi circa l'anno scorso è avvenuto tanto che mi sono leggermente informato visto anche che ci sono un nuovo tipo di mostri o meglio di carte che sono i link se non sbaglio che sono quelle blu che in un certo senso mi sono piaciuti e non come ogni cosa ogni cosa insomma ha il suo lato positivo e il suo lato negativo però non riuscivo a starci troppo dietro erano troppe cose da dover recuperare il tempo era quel che era ed è quel che e alla fine ho mollato definitivamente dovete sapere che per me Yugi per quanto non ci giochi più è sempre un pallino nella testa ma non in senso propriamente negativo perché ok ci sta la nostalgia io obiettivamente ho legato con un botto di persone appunto all'interno della community mi sono veramente divertito un sacco anche se sono stati solo due tre giorni che ci siamo visti in real durante un intero anno però ci siamo sentiti più volte e davvero per me Yugi ha lasciato tante tante cose buone come ad esempio non mi reputo un inglese da C1 ecco però una di queste piccole cose appunto l'inglese il fatto di giocare online mi ha aiutato anche un sacco nel lavoro che appunto svolgo ora quello del game level design perché se vuoi fare lo sviluppatore di videogiochi non puoi non sapere l'inglese o quantomeno non puoi non saperlo un minimo ecco una cosa che forse mi piacerebbe fare se magari ci sta ancora un minimo di seguito su questo canale ma dubito fortemente è che se vi interessa vorrei tornare su Twitch perché sì ho anche streamato su Twitch durante il periodo di inattività per un periodo ho streamato per circa un anno e mezzo due ed ero arrivato a quota 500 iscritti però nell'ultimo periodo ho dovuto smettere appunto per lo stress che si era accumulato vedevo forse Twitch secondo me lo vedevo lo vedevo un po' in maniera sbagliata perché ci stavo troppo troppo dietro dovevo prenderlo in maniera più chill che è la cosa che magari vorrei fare in futuro magari ora nel caso dovesse riprenderlo cosa vorrei portare? League onestamente non lo so magari magari ogni game ogni tanto se ci sta qualcuno di voi mi facciamo qualche game con la chat for fun anche per stare in compagnia però vorrei anche portare vari giochi per analizzarli dal punto di vista tecnico quindi di design level design parlarne assieme a voi e magari farci anche qualche chiacchierata infatti sto parlando soltanto di idee ora non è nulla di concreto effettivamente tuttavia discutendone anche con Nat stavo pensando di portare una sorta di format su Twitch o anche qui su YouTube in diretta o registrato perché no però preferirei in diretta diciamo che in un certo senso è più facile da gestire per alcune cose una sorta di format in cui ci sta una riunione fra i vari colleghi yugitubers sia del periodo in cui giocavo giocavo io ma anche del con yugitubers appunto odierni quindi di questo periodo un po' per creare il confronto fra il prima e il dopo e parlare quindi del gioco in sé allo stato attuale cosa cambieresti cosa rivorresti qualcosa del genere cosa non funziona cosa funziona eccetera eccetera che secondo me potrebbe essere una cosa molto molto carina appunto fra giocatori di vecchia data ma anche giocatori nuovi perché appunto mi interessa chiedere i vari punti di vista tra i vari giocatori e questo è più o meno tutto ragazzi lo so che è un video un po' strano da vedere effettivamente sul canale uno perché effettivamente non carico video da un bel po' anzi cioè non ci sono stati proprio contenuti nell'ultimo periodo e due perché non riguarda effettivamente i yugi ma un po' il canale in sé per me questo era un video doveroso da fare per me i yugi youtube appunto non si possono scindere dal mio punto di vista almeno ho iniziato così a condividere le mie passioni e dovete sapere un po' che per me è stata veramente una super super avventura perché in un certo senso è anche una grande soddisfazione perché sono andato a crearmi questo piccolo mio rifugio partendo da un piccolo pesino e probabilmente gran parte di voi hanno diciamo sofferto questa cosa che vi dirò ora ossia il fatto che giocare a yugi essere un po' nerd soprattutto nel paesino non è proprio visto di buon occhio vieni dato del bambino e cose del genere quindi aver creato questo piccolo progettino vederlo realizzarsi per me è stato super super appagante e con questo come vi ho accennato prima il canale non chiude perché uno ci sono affezionato e comunque sia per me è una sorta di reperto di diario questo canale è qui e potrebbero esserci altri video se se mi date conferma che qualcuno è rimasto magari sì io sto addirittura pensando di fare ogni tanto qualche unboxing a caso non mi dispiacerebbe essere ancora in contatto con voi però ripeto prendete tutto ciò con le pinze io vi rinnovo di nuovo nel caso li invito su su twitch e di nuovo invito a scrivere nei nei commenti in maniera tale anche da capire effettivamente chi ci sta chi non ci sta anche se non mi voglio fare effettivamente aspettative però sì sono contento di quello che ho creato piccole soddisfazioni ecco mi dispiace non averle magari saputo gestire al meglio il canale e aver avuto tanti alti e bassi che purtroppo è una cosa di cui ho sofferto ho sofferto veramente veramente tanto con il canale e un'altra cosa che mi dispiace questa è una cosa che riguarda però più in generale la community dei gamers in generale perché non solo yugi e vi parlo da league player quindi immaginate io su lol non sono un tipo che flamma e appunto vedere sia su yugi su lol ma su qualsiasi altro toc vedere diciamo questa tossicità gratuita e cattiveria gratuita mette una tristezza infinita e facendo l'esempio di yugi a me è venuta un po' la tristezza nel vedere gente online insultare punto novizi del gioco gente che magari stava ricominciando a giocare gente che chiedeva che gli metti su ruling o pareri feedback su alcune liste insulti che boh ma gratuiti tipo insulti alle madre get cancer robe così ma senza senso senza alcun nesso logico a livello umano è sbagliato secondo me quando è stato creato il gruppo di yugi all'inizio su facebook e se non lo sapete sono stato uno dei cofondatori del gruppo principale di yuglio italia ma tantissimi anni fa quindi si parla di 2009 2010 la gente che ci stava dentro non andava a insultarsi così anzi era super volenterosa di voler aiutare gli altri perché alla fine si era creata quella piccola cerchia diciamo del gruppo di nerd ecco non voglio usare il termine sfigato perché secondo me non è giusto e soprattutto chi segue le proprie passioni non deve mai reputarsi tale e su questo sono uno dei primi che si schiera tanto che vi ho detto ora faccio lo sviluppatore di videogiochi ma vi posso garantire che per l'85% della mia vita sono stato preso in giro per il semplice fatto di volerlo fare e ora invece sono qui insomma ho combattuto e ce l'ho fatta quindi avere un hobby finché non diciamo nuoce qualcuno va bene e fa bene alla persona quindi ragazzi io concludo il video qui e ringrazio tutti quelli che hanno visto il video fino a questo punto magari che hanno anche solo cliccato sul video per vedere effettivamente se fosse per curiosità ecco e io vi abbraccio veramente tutti il canale non chiude mi piacerebbe parlare con alcuni di voi nei commenti mi farebbe tanto tanto piacere magari questo è anche un monologo quindi parlo solo a me stesso dato che sono l'unico a vedere il video però il video c'è e ringrazio tutti 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 fatemi sapere per twitch o le live di youtube che davvero ci tengo o anche se volete fare semplicemente qualche partita a lol basta che mi diciate il vostro nick e vi aggiungo io un abbraccione dal vostro stardust ormai noto come destiny ma vabbè